Siamo alle pagine di sport dal Corriere dell'Umbria all'apertura con la Ternana, dunque siamo in Serie B, Trist ed Esperienza, Lucarelli accoglie a braccia aperte Mantovani, Lex Grifo Casasola Biennale e Laboico per il difensore il polacco con tratti trennali, Capo Zucca, Suddi Stefano, Raimondo, Lella e Baglieie. E poi si parla della Ternana Woman su da Cascia al centro sportivo Magrelli Active, le ragazze di Mellillo preparano la nuova stagione. Ancora il Corriere ma siamo in Serie C con il Perugia, Curado saluta il Perugia, il difensore argentino ha rescisso il contratto, da verificare Juan di Serio e Santoro, Bartolomei e Matos verso l'accordo, Baldini dice dal 12 agosto chi non fa parte del progetto lavora a parte. E per il ciclismo Ucifolini ok, Proietti, Gagliardoni arriva secondo, Gallo al terzo posto. Ma c'è da parlare in Serie C anche del Gubbio e dei calendari, esordio con Pineto, domenica 3 settembre la prima di campionata al Barbetti con la matricola abruzzese, il derby contro il Perugia al Curi il 12 novembre, il 25 ottobre c'è la Juventus Under 23. E sui calendari e i particolari del girone B di Serie C che sono usciti ieri, nonché anche sulle motivazioni del Tar del Lazio che ha riammesso in Serie B il Lecco mettendo una pesante spada di Damocle sulla testa del Perugia che per il momento resta in C, poi si vedrà con il Consiglio di Stato. Noi vediamo il prossimo servizio. Per la cronaca stessa data per l'ultimo derby giocato tra le due formazioni che vide la vittoria del Gubbio per 3 a 2. Prima fuori casa per il Gubbio il 10 settembre ad Ancona, mentre per il Perugia la prima in casa sarà con il Pescara con la vicina Arezzo. Il derby extra regionale è fissato il 29 ottobre in terra toscana, mentre per i perugini l'appuntamento è alla penultima giornata di andata il 17 dicembre ad Arezzo. Mentre scorrono le grafiche del calendario di C girone B va considerato che il Consiglio direttivo di Lega ha preso in esame i possibili scenari che potrebbero scaturire dall'accoglimento dei ricorsi presentati al Consiglio di Stato. Nel caso di un'eventuale decisione del Consiglio di Stato che comporti la necessità della riammissione di due società alla Serie B e dal conseguente ripescaggio di due società in Serie C, la struttura dei gironi deliberati e dei successivi calendari non cambierà. Invece, nel caso di un'eventuale decisione del Consiglio di Stato che non comporti la necessità di riammissione alla Serie B e quindi di ripescaggio in Serie C, la struttura dei gironi deliberati e dei successivi calendari muterà seguendo il criterio della latitudine, ovvero verrà sostituita nel girone A l'Alessandria con il Brescia. Di conseguenza, nel girone B, quello del Gubbio e del Perugia, arriverà l'Alessandria al posto del Pescara che andrà nel girone C. Intanto, il Tar del Lazio ha reso note le motivazioni della sentenza con la quale è stato riammesso il lecco in Serie B. Il Tribunale amministrativo ha riconosciuto la buona fede della società lombarda che, causa lo slittamento della finale play-off al 18 giugno, ha reso inapplicabile il termine primario del 15 giugno 2023 per presentare domande e documentazione. Di conseguenza, continua il Tar, viene travolto anche il termine per integrazioni del 20 giugno, conciò configurandosi nei confronti dell'ECCO la corrispondente inesigibilità. Viene dunque scardinato il principio base del fare amministrativo, ovvero della inderogabilità dei termini. La speranza del Perugia resta appesa al Consiglio di Stato del 29 agosto, di cui è stato chiesto un anticipo d'udienza. Ancora il Corriere, il basket, Bischetti e il colpo della Val di Ceppo, il Montenegrino Pavicevic a Foligno. Tutti i calendari, ovviamente il calendario di Serie C. Noi andiamo però in promozione, il Foligno punta i play-off, il tecnico Bobby fissa gli obiettivi del campionato il giorno del raduno a Corvia. Non ci sono partite scontate, dice, lavorerò per tirare fuori il meglio dei ragazzi. In prima categoria il Fratticciola ci crede, Giassuda per diventare matricola terribile, il 27 agosto esordio in Coppa. Amichevole, Ventinella più in palla, Pierantonio K.O. finisce 3-2. E poi nel mondo del motociclismo, acuto di Lolli, nell'under siamo a Spoleto. Fa sua la Spoleto Forca di Cerro nella Supermoto, ottimo secondo posto di Tuzzi. Quattro gare in due giorni, spettacolo e l'annuncio del ritiro definitivo di Bottalico. Sport Equestri, Ponia di Umbria sempre sul podio, tre medaglie d'oro per il Fuxia Team. E poi dal ciclismo a San Giustino c'è la mano dell'osteopata Alto Tiberino Morini, nei successi ripetizioni di Superganna. Menciotti, Argento Mondiale, la grande gioia, ho dato veramente tutto, alla fine non avevo neanche la forza di esultare. Dopo tre quarti posti il Ternano sale sul podio centrando la Piazza d'Onore nei Cento d'Orso. Questo era il Corriere, andiamo alla Nazione, ripartendo dal Perugia. Il Perugia fa i conti con l'effetto Tar, anche Curado rescinde il contratto. Uscite le motivazioni del Tar del Lazio, le abbiamo sentite nel servizio. Il club di Pian di Massiano è fiducioso di poter dire la sua al Consiglio di Stato. E poi siamo ancora a Perugia, Cancellieri, crede nel Grifo di Baldini, mettiamo anima e corpo per fare bene con questa maglia. Ancora i calendari, ma li abbiamo già ampiamente visti. Grifo la prima a Lucca con l'Arezzo alla diciottesima. Gubbio è un girone di ferro, debutto al Barbetti contro Pineto. E poi c'è la Ternana che accelera tre nuovi arrivi, Loboico, Casasola e Mantovani. Rosso Verdi riprendono a lavorare a Narniscalo. Domenica c'è la Coppa Italia contro la Salernitana. Per il calcio di promozione Foligno c'è il figlio d'arte Francesco Conti. Per il basket, DAT femminile 3x3, lo Scudetto alle Ladies da Perugia. Infine il volleyball di Foligno, una conferma e due novità. La Sport Academy Team Magione punta sulla centrale Matilde Vibi. Chiudiamo con il messaggero. E allora, Fere, siamo chiaramente a Terni, un triste di arrivi rilancia l'entusiasmo, l'abbiamo già letto. L'ultima curva di Mirko Gianzanti, il lutto, l'abbiamo letto nelle pagine di Cronaca, a Terni per la morte, a 46 anni, a causa di una malattia, di un antidivo del motociclismo. Il ricordo, ovviamente, di chi lo aveva conosciuto. E poi andiamo a Perugia, Grifo, così il Tar ha assolto il lecco. Pubblicate le motivazioni della sentenza che rispedisce il Perugia in C, i ritardi nei play-off di Lega Pro avrebbero meritato un rinvio delle scadenze, secondo il Tar. L'effetto ricorsi potrebbe togliere dal girone l'altra big, il Pescara, abbiamo provato a spiegarvelo nel servizio. E poi Foligno, la Lucky Wind, si prende Pavicevic, le caratteristiche, bravo nell'uno contro uno, dotato di ottimo tiro da tre punti. Infine, il calendario, ma l'abbiamo già ampiamente visto, per il Perugia l'avvio è in salita, più facile per il Gubbio con il Pineto. Primo derby al Curi il 12 novembre, il ritorno è il 17 marzo. Bene, questo per le pagine di sport che si chiudono qui. L'appuntamento con l'informazione, come sempre, è a partire dalle 19.30 con i nostri tigi serali. A voi auguriamo a tutti una buona giornata. Grazie.